Qual è la connessione tra epatite e tumore del fegato? La relazione tra epatite e cancro del fegato è una causa ed effetto. Mentre ci sono altri problemi che possono portare al cancro del fegato, i casi cronici di infezione da epatite sono tra i più comuni. Ciò è evidenziato da percentuali più elevate di persone in alcuni paesi asiatici e africani che hanno un cancro al fegato correlato a infezioni da epatite cronica B. In tali luoghi, l'infezione da questo virus è comune in giovane età e dopo molti anni con la malattia, un'alta percentuale di persone che vivono in questi paesi sviluppano un cancro al fegato. In altri paesi in cui l'infezione da epatite B cronica non è prevalente, l'epatite C ha un colpevole più frequente nella diagnosi di cancro del fegato. La relazione tra epatite e cancro del fegato è chiara. Gli individui con infezioni croniche da epatite sono a maggior rischio di sviluppare questa forma di cancro. Un'infezione da epatite B cronica danneggia gradualmente il fegato per molti anni, il che può portare a una diagnosi di cancro al fegato. Ad esempio, nei paesi asiatici in cui l'infezione cronica con epatite B è prevalente, una persona può avere un'infezione iniziale da epatite B mentre ha ancora un bambino, 30 o 40 anni dopo, dopo anni di danno progressivo al fegato, la persona può essere diagnosticato un cancro al fegato. Il processo esatto in base al quale l'epatite B causa il cancro al fegato non è perfettamente compreso. Gli scienziati hanno scoperto somiglianze genetiche tra il virus e le cellule tumorali. Sembra che alcune parti del codice genetico del virus possano cambiare la composizione genetica delle cellule epatiche. Questo potrebbe essere il motivo per cui le cellule del fegato diventano cancerose. In altri paesi, la connessione tra epatite e cancro del fegato è un po' diversa. In posti come gli Stati Uniti e l'Europa, l'epatite B non è una causa prevalente di cancro al fegato. L'epatite C, d'altra parte, ha maggiori probabilità di provocare il cancro al fegato in questi paesi. Come con l'epatite B, gli scienziati non sono ancora sicuri del perché l'epatite C causa il cancro al fegato in alcuni casi. Non sembra che un codice genetico sia coinvolto come con un'infezione da epatite B invece, Alcuni scienziati pensano che una proteina che fa parte dell'epatite C possa interferire con i livelli attesi di morte cellulare e causare cicli di riproduzione e cicli di vita normali delle cellule. La cicatrice gioca anche un ruolo nella connessione tra questo tipo di epatite e il cancro del fegato. Una persona con questa forma di epatite cronica può sviluppare il cancro circa 10 anni dopo che il suo fegato inizia a soffrire di cicatrici dalla malattia.